90 secondi, 90 interminabili e catastrofici secondi. 90 secondi che hanno cambiato per sempre la storia recente del meridione. Era una fredda sera del 23 novembre del 1980. Alle 19.30 circa, una scossa di magnitudo 6.9 con epicentro nell'Irpinia sconvolse la Campania e la Basilicata. Il bollettino delle vittime e dei feriti sembra quello di un evento bellico, circa 3.000 morti, 280.000 sfollati e quasi 9.000 feriti. I tg di allora mandavano in onda immagini tragiche di distruzione e morte, di interi paesi rasi al suolo, di famiglie che in pochi attimi hanno perso ogni cosa. Sui luoghi del disastro anche un provato Sandro Pertini, un presidente della Repubblica che per la prima volta nella storia dell'Italia mostrò un volto umano vicino al popolo, alle sofferenze della gente. Negli annali rimane il suo appello, quel fate presto, quasi gridato nelle interviste e nei moniti tipici del presidente partigiano. Tutti ricordano il terremoto dell'80, anche chi non era ancora nato, ma lo ha vissuto nei racconti di nonni, genitori, familiari. Anche la provincia di Salerno ha pagato le conseguenze del sisma, non rimanendo in colo ma alle scosse. Quel terremoto mise a nudo la fragilità italica, l'inefficienza dei soccorsi, la necessità di avere un piano di aiuti e di emergenza. Nacquero così la protezione civile, una maggiore attenzione alle strutture e soprattutto i criteri antisismici. A distanza di 42 anni qualcosa è cambiato, ma poco è rimasto di quell'insegnamento. L'aquila, amatrice, giusto per fare una citazione, ancora gridano aiuto. L'irpina stessa lo fa, con ferite mai rimarginate, ferite che mai cicatrizzeranno.